Il no dei Sannella non è secco, è un modo per respingere il pressing e avere più tempo per meglio verificare l'investimento. I fratelli delle rinnovabili non hanno chiuso la porta al Foggia Calcio. Se l'hanno fatto ieri, dicendo ai giornalisti che per il momento non possono pensare al Foggia, è solo perché, soprattutto ieri, stavano pensando al pastificio Tamma. Erano a Milano, dove hanno messo il penultimo tassello del piano d'acquisto del 60% della storica struttura in via Bari. Tra dieci giorni saranno soci di maggioranza. La famiglia Tamma passa al 40%. Ieri mattina i dipendenti del pastificio aspettavano la notizia da Milano, che poi è giunta nel pomeriggio. Stamattina sono andati a lavorare con più entusiasmo. Un po' delusi quelli che aspettavano la conferma della trattativa del Foggia Calcio, ma in un solo giorno, pur considerando la solidità finanziaria del gruppo, non si può pretendere una doppietta milionaria. Il pressing sui fratelli Sannella ricomincerà lunedì mattina. Il direttore generale Tiso ha già fissato l'appuntamento. Con Tiso ci stanno lavorando anche gli uomini della vecchia guardia, fronte unico sull'unico percorso per salvare il Foggia. L'ipotesi dell'investimento del gruppo Sannella nel Foggia Calcio è ancora in piedi. Concediamogli il tempo di gustare l'operazione del pastificio Tamma. Poi, tra non molto, si siederanno al tavolo rosso-nero per capire la portata dell'investimento, programmare la stagione e a settembre andare allo stadio e gridare Forza Foggia.